Il Palazzo dei Priori. La costruzione è il risultato ottenuto dall'unione di due edifici, un palazzo nobiliare del XIII secolo, che occupava la parte nord dell'attuale palazzo, appartenuto a Rinaldo di Giorgio, e la chiesa di San Martino, che occupava la parte sud. Quest'ultima, antichissima chiesa, dava anche il nome alla piazza, già dal 500-700 d.C., anche se la prima notizia certa risale all'anno 1154, quando risultava appartenente al monastero di San Savino. La storia delle modernizzazioni del palazzo, avvenute nel corso dei secoli, comincia nel 1296, quando il comune di Fermo decide di costruirvi il Palazzo del Capitano del Popolo. Dal 1396, un secolo dopo, il palazzo ospiterà il Collegio dei Priori, che esercitava già potere esecutivo dal 1297. Edivi, il Collegio resterà per 400 anni, fino a quando, dopo la rivoluzione francese, cadranno tutte le vecchie istituzioni, compreso il Collegio. L'attuale aspetto del palazzo, prospicente la piazza, rialzato di circa 3 metri sul livello stradale rispetto agli edifici originali, è dovuto al progetto risalente alla prima metà del Seicento, che gli ha dato la particolare apertura a ventaglio. L'unica loggia centrale ospita la statua in bronzo di Papa Sisto V, realizzata da Accursio Baldi, detto il San Savino, nel 1588. Il palazzo era anche dotato di una torre campanaria, oggi demolita, di cui non si hanno notizie certe, tranne che era probabilmente ancora esistente nel XVII secolo. L'edificio si articola su tre piani ed ospita dal 1986 la Pinacoteca Civica e il Museo Archeologico, nonché le sale di rappresentanza, quali il Gabinetto del Sindaco, Sala Rossa, Sala degli Stemmi, Sala dei Costumi, Sala del Consiglio, Sala dei Ritratti. Il piano terra dell'edificio ospita oggi gli uffici della Polizia Municipale, l'Ufficio Turistico e la Biglietteria dei Musei Civici.